La prima parte è terminata, adesso comincerà la seconda parte di Musica d'Insieme, dove suoneranno tutti insieme in una piccola formazione di valide che ormai da due anni ci accompagna nei nostri spettacoli, nel corso di musica. E vorrei dire a tutti i genitori che le lezioni del corso per quest'anno scolastico sono finite, ma la banda continua a fare prove e a fare servizi durante il corso dell'estate. Per cui il venerdì sera, tutti i venerdì sera o quasi tutti facciamo le prove qui nella Casa del Popolo. Chi se la sente di partecipare potrà venire a fare le prove insieme alla banda il venerdì sera per mantenere in allenamento lo strumento. Quindi non vi chiederemo più se volete fare delle prove speciali, siete liberi di venire se avete interesse. In più, quest'estate oltre alle prove faremo dei servizi musicali, come il domenica 24 giugno, dove faremo una festa per l'anniversario di fondazione della banda, che è stata fondata nel 1988, quindi 30 anni fa. dal nostro amatissimo e instancabile Presidente Vittorio Spano. Dopodiché il programma avremo una processione religiosa il primo di luglio e un'altra all'inizio di agosto. per cui siete invitati a partecipare alle prove d'ora in poi. Adesso direi che siamo pronti e ragazzi venite a sedervi, siamo pronti per iniziare la seconda parte. Grazie. 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 Grazie.